Sono Theresa May e sono la persona migliore per fare il Premier della Gran Bretagna. Non le ha certo mandate a dire l'attuale ministro dell'interno dell'esecutivo del dimissionario David Cameron e candidata sia alla guida del partito conservatore Tori che alla carica di Premier. Il passo è stato compiuto prima con un intervento sul Times, poi con una conferenza stampa. Questa discesa in campo scompagina un po' le previsioni sul dopo Cameron. Su di una cosa la May è stata chiara. Non ci saranno elezioni generali fino al 2020 e non ci sarà una decisione di invocare o meno l'articolo 50 fino a quando non sarà chiara la strategia negoziale britannica. E quest'articolo non sarà invocato prima della fine di quest'anno. La May è stata chiara sul fatto che il risultato del referendum non si discute e che il Regno Unito è unito. Resta da vedere cosa ne pensano in Scozia e Irlanda del Nord.